Ciao, oggi vi presento la linea OID MAGIC, diverse confezioni con giochi di prestigio all'interno, tutto lo corrente e dentro ogni confezione, anche quelle più piccole, c'è il DVD che spiega come fare giochi di magia. Oggi vi presento quello dei bussolotti, vi racconto una storiana del mio amico che va a raccogliere le ciliegie. Il primo giorno prende la prima ciliegia dall'albero, la mette sopra il cestino giallo, copre col rosso, copre col blu, tocco magico, soffio del vento e la ciliegia passa sotto il cestino giallo. Il secondo giorno prende la seconda ciliegia dall'albero, la mette sopra il cestino rosso, pensando che quello giallo fosse bucato, copre col blu, copre col giallo, tocco magico, soffio del vento e anche la seconda ciliegia passa sotto. Terzo giorno, cosa fa? Terza ciliegia dall'albero, la mette sopra il cestino blu, credendo che sia il giallo e sia il rosso fossero bucati, copre col giallo, copre col rosso, tocco magico, soffio del vento e anche la terza ciliegia passa sotto. Questo mio amico ha un contratto di quattro giorni alla settimana. Il quarto giorno, non essendoci più ciliegie sull'albero, cosa fa? Prende una ciliegia invisibile, la mette sopra il cestino giallo, copre col rosso, copre col blu, tocco magico, soffio del vento e le ciliegie diventano quattro. Tutti questi giochi, ma anche altri con le carte, li potete trovare dentro le confezioni Oid Magic da me in negozio. Ciao e alla prossima! Ciao!